da poco in agonismo però subito a segno con un campionato italiano sì effettivamente diciamo che ci ho creduto anch'io parecchio perché sono stato stimolato a crederci nelle possibilità che avevo grazie anche alla mia istruttrice la verità perché anche lei spesso mi dimostrava che spesso ci arrivavo quindi però posso dire che effettivamente è stata tutta una soddisfazione ma c'è anche parecchio lavoro dietro a cui mi ha portato a questa cosa qui e sinceramente sono stra felice di avere per quest'anno raggiunto quel risultato lì sperando che il prossimo anno lo possa migliorare comunque sia